allora in questo video andremo a cercare il mio nome su google e su youtube come mai lo faremo perché nessuno lo fa caro maestro che ormai è il famosissimo gestore del gruppo telegram e vi ricorda di unirsi giusto a duito gruppo non c'è un gruppo telegram che trovate in descrizione oppure qua michele rapolla michele rapolla pizza maker in cerca di occupazione andiamo a vedere eccomi rapolla michele pizzaiolo verace grosso michele a rapolla vediamo un po youtube cosa ci offre a parte me spero ma che bel giovanotto ecco un'altra reaction al video michele rapolla parente il forza di mano e innanzitutto volevo dirti che oggi una grande vittoria anche del carattere dove somma ciro falco ha certamente una vittoria che no perché questa persona fa il giornalista michele il più simp di rapolla 14 anni fa il simpatico michele ci illustra rapolla vediamo amici di milano amici del nord buonasera a tutti siamo qui della grande e magnifica rapolla colore del 1800 di puro stampo ed ecco perché voglio dire amici del nord visitate rapolla perché vedere rapolla è come mangiare una cipolla e mangiare una cipolla è come avere la pasta frolla mi ha convinto festa delle cantine rapolla michele e sei passe di ballo prima parte Vedi c'è pure una gamba Immediatamente parte 2 allora Se c'è una parte 1 Eccolo qua Questo potrebbe essere il padre dei due figli La polla di Michele Pianta Canzone devo dire veramente molto brutta Quello che voglio dirvi è diffidata dalle imitazioni Mi trovate solo qui C'è anche lui C'è anche lui